Sono Nina Mingardi del liceo Marco Polo di Venezia e oggi sono qua in piazza perché penso che sia allucinante che un ragazzino di 18 anni che ha la mia stessa età si sia trovato a morire invece che essere a scuola a studiare. È allucinante che la scuola ci mandi a fare alternanza scuola-lavoro in condizioni di sicurezza assolutamente inaccettabili, in Italia muoiono almeno 4 persone al giorno sul posto di lavoro e non possiamo accettare che sia questo quello che la scuola ci insegna e non possiamo neanche accettare che la risposta della scuola sia il minuto di silenzio senza neanche parlare di quello che è successo, senza neanche spiegare quali sono i danni che tutti i giorni ci arreca l'alternanza scuola-lavoro. Allora oggi siamo qua in piazza per dare una risposta che sia forte, per dare una risposta da tutti gli studenti e studentesse che non sono più disposti ad accettare, di rischiare di morire per una scuola di cui a noi non interessa nulla.